Il lettrio palermitano Marnage ha appena pubblicato un nuovo singolo dal titolo No More, il cui video, in soli due giorni dalla pubblicazione, ha ottenuto quasi 30.000 visualizzazioni. I Marnage hanno già partecipato a numerosi festival internazionali, riscuotendo consensi anche da colleghi illustri come David Guetta, che ha più volte suonato i loro brani durante le proprie serate, e Timmy Trumpet, che ha deciso di produrre No More. No More Sorry that I can't take your calls no more You can't leave a message after the tone You say that you let me not be tired I do, but I don't really give a no more 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 But I don't really give a no more